La scuola di governo del territorio e del paesaggio che è stata istituita dalla giunta provinciale di Trento per agevolare quel salto di qualità necessario al Trentino dopo i fondamentali cambiamenti sia in ambito di pianificazione urbanistica sia in ambito istituzionale. Noi crediamo che questo rapporto tra uomo e ambiente, la qualità del paesaggio, la qualità del nostro ambiente, del nostro stesso stile di vita sia veramente un elemento sul quale il Trentino può giocarsi una carta in più rispetto anche agli altri territori che in Europa e nel mondo competono con noi. Il nuovo piano urbanistico provinciale e la riforma istituzionale consentono al Trentino di fare un salto culturale di grande importanza. Il governo provinciale con la STEP intende accompagnare questi cambiamenti con la necessaria formazione di liberi professionisti, amministratori e personale provinciale che operano negli ambiti delle PUP e della riforma istituzionale. Non c'è dubbio che qualsiasi tipo di programmazione debba partire da un elemento di conoscenza, da un elemento anche poi di discussione, di divulgazione della conoscenza. e solo a questo punto una comunità può decidere anche quali azioni compiere, quali azioni mettere in campo. Per cui sicuramente lavorare sulla comunicazione, lavorare sull'informazione, lavorare sulla formazione diventa un elemento veramente importante perché si possa programmare, avere una visione strategica, avere una strada da seguire. Quindi sicuramente sì. Nelle scorse settimane il Centro Panorama di Sardagna ha ospitato due corsi di formazione rivolti in primo luogo ai professionisti impegnati a vari livelli nei processi di pianificazione ma anche ai cittadini sensibili ai temi che riguardano il paesaggio come elemento centrale dell'identità. Due convegni promossi da STEP per mettere in luce il tema del paesaggio tra teoria e pratica. Sono intervenuti due professionisti di fama internazionale Sergio Crotti, professore ordinario di composizione architettonica al Politecnico di Milano e Gonzalo Birne, accademico di fama mondiale, autore di importanti realizzazioni in Portogallo, in Italia e in diversi paesi europei. Beh, direi che nel caso del Trentino il paesaggio è l'anima profonda e la stessa cultura è un'unità inscindibile e soprattutto è legata ai grandi segni geografici alla logica degli insediamenti antichi e perfino gli sviluppi recenti con molte naturalmente riserve che per casi singolari ha mantenuto, ha risentito di questa forza strutturale del paesaggio. Questo è un tema che diventa veramente centrale nella discussione della qualità di vita anche nella partecipazione della cittadinanza oggi, direi. Un'iniziativa, quella di Step che trova il pieno consenso dell'ordine degli architetti e di quello degli ingegneri convinti più che mai sull'importanza di costruire una vera cultura del paesaggio. Un paesaggio che si divide in paesaggio naturale sopra i 1800 metri è un paesaggio invece che è frutto dell'opera dell'uomo della trasformazione dell'uomo sotto quella quota. Non si tratta solo di una questione costruttiva si tratta di una questione di carattere sociale di carattere economico di carattere organizzativo e infine anche di carattere amministrativo. In questo ambito noi cerchiamo di esplorare i diversi aspetti del paesaggio attraverso i contributi di luminari dell'architettura e poi di altre discipline. Si cresce anche facendo cultura insomma non solo dicendo dei no io preferirei che alla gente si dicesse come fare bene più che continuare con posizioni che sono più di giudizio che non di aiuto alla costruzione di un buon progetto e quindi stiamo investendo anche su questo sperando che la cosa possa essere veramente d'aiuto. grazie a tutti i nostri spettatori